Ed eccolo il match winner della partita con il Città di Foligno, l'ho pinto felicissimo, contento per questo gol pesante che porta in dote e in classifica altri tre punti. Sì, sì, sono contento per me personalmente, contento per la squadra, contento per i tre punti. Dobbiamo continuare su questa strada, mettiamo sempre in campo tutto, sacrificio, tutto quanto, e questo ce n'è sempre ripagato e abbiamo anche oggi preso questi tre punti che ci fanno stare là sopra e sperare sempre di stare là. Una vittoria importante, anche meritata, per una squadra l'Avezzano che fino ad oggi tra l'altro non ha subito reti. Avete forse capito subito qual è lo spirito giusto per far bene in questo campionato? Sì, sì, sicuramente sono tre partite, più quella di Coppa che non prendiamo gol. Sicuramente è merito nostro, è merito di come difendiamo, è merito del Miste che ogni giorno ci mette là e ci fa migliorare. Soddisfatto per questo gol, quando si segna ci sono sempre delle dediche, credo. In questo caso la rete vittoria per la partita di oggi, a chi va la dedica? A tutta la mia famiglia, a tutti i miei amici che non mi hanno mai abbandonato, anche quando pensavo che non sarei tornato a certi livelli. La dedico a loro e soprattutto alla mia famiglia che ha fatto tanti sacrifici per portarmi fino a qui.